Sono trascorsi 50 anni dal 6 luglio del 1970, data dell'insediamento del primo consiglio regionale delle Marche. Un mese prima, il 7 giugno, i marchigiani si recavano alle urne per eleggere i propri rappresentanti nell'assise regionale. Oggi, a mezzo secolo di distanza, nell'aula di Palazzo Raffaello, si è celebrata l'importante ricorrenza che sancisce la solidità dell'istituzione. È stata una cerimonia sobria nel rispetto del difficile momento storico che si sta attraversando, ma con un chiaro messaggio di fiducia e di speranza. Abbiamo superato tanti momenti complicati, lo ricordavo in aula dai terremoti alla pandemia, passando per la crisi economica. Ci siamo sempre saputi rialzare, abbiamo sempre saputo ripartire e oggi dobbiamo guardare avanti verso le sfide del futuro che sono quelle della sostenibilità ambientale, quella della lotta alla disuguaglianza, ma anche la ricostruzione post-sisma e la ripartenza economica dal punto di vista economico dopo la pandemia. Credo che su questo dovremo lavorare nei prossimi anni a partire dalla prossima legislatura che è in fase d'avvio. Attraverso un documentario e una ricerca storica sono state ripercorse le tappe della crescita e dell'affermazione del tessuto economico e sociale della regione. Proiettato anche un video messaggio di David Sassoli. L'Europa che uscirà da questa emergenza, ha detto il presidente del Parlamento europeo, non potrà essere la stessa e abbiamo promesso di volerla più forte, più capace e più resiliente. In questi momenti difficili, ha giunto Sassoli, le regioni, le città e i corpi intermedi hanno dimostrato di essere la spina dorsale di questa unione. Nell'aula consigliare, abbellita da decorazioni floreali tricolori, erano presenti vari ex consiglieri ed ex presidenti di Consiglio e Giunta e gli unici due consiglieri ancora viventi della prima legislatura, Giuseppe Cerquetti e Giacomo Mombello. Le conclusioni della cerimonia sono state affidate all'attuale presidente delle Marche, Luca Ceriscioli, che si è soffermato sulla storia degli ultimi cinque anni come strumento utile per interpretare al meglio le sfide del futuro. Una regione che festeggia i suoi 50 anni in un passaggio che la segnano, la contrassegnano come un ente che di fronte a sé ha certamente ancora oggi una grandissima missione, cresciuta in termini compiti vicino ad una fase strategica. Meglio di così non si poteva fare perché immagino che per qualunque soggetto è il momento del compleanno, è il momento di riflessione e i nostri 50 anni ci proiettano verso un futuro fatto di grandi impegni, grandi attività e un ruolo predominante nello scenario regionale.